Da un lato l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti, dall'altro la mancata attivazione delle strutture a ciò deputate. Ne consegue una situazione veramente drammatica, quella in cui, verso l'area portuale di Sciacca, dove da giorni e giorni i rifiuti che vedete in queste immagini continuano a fare bella mostra di sé in uno dei luoghi più belli e caratteristici della città e tra i più visitati ogni giorno dai turisti. Una vera e propria discarica a cielo aperto è un'area che si presenta veramente abbandonata e degradata. Eppure stiamo parlando del porto dove quotidianamente a tutte le ore i vari mezzi di trasporto urbano accompagnano i turisti, compreso il bus scoperto dove i visitatori possono ammirare non solo il degrado ma anche sentirne gli odori. Da quando sono stati rimossi i cassonetti la zona sembra non avere più pace. Da un lato va sicuramente condannato il gesto incivile di chi abbandona questi rifiuti, dall'altro però la mancata apertura dell'isola ecologica strutturalizzata da tempo e che dovrebbe raccogliere i cosiddetti rifiuti speciali sicuramente contribuisce ad alimentare e ad aggravare il problema. Lo stato di degrado in cui versa l'area portuale non a caso è stato al centro proprio nei giorni scorsi di polemiche politiche e segnalazioni da parte di consiglieri di opposizione che hanno accusato l'amministrazione di avere completamente abbandonato la zona portuale e la marineria. Non va meglio nelle località balneari o meglio nelle aree di accesso alle spiagge maggiormente frequentate della città. È così che si presenta a stagione estiva ormai abbondantemente iniziata l'area parcheggio di località Sovareto, un'area completamente sconnessa, piena di buche profonde e avvallamenti che soprattutto durante lo scorso fine settimana hanno messo a dura prova non solo la tenuta delle auto che hanno rischiato seri danni ma anche la pazienza stessa degli automobilisti. È inconcepibile che in una città turistica a giugno inoltrato un'area destinata a parcheggio di una delle più frequentate località a balneari cittadine si presenti in queste condizioni. Grave resta infine la situazione in viaglien dalla perriera, regno incontrastato e diversi randaggi che continuano a seminare il panico soprattutto tra i giovanissimi. Tante le famiglie che si sono rivolte alla nostra redazione per segnalare che molti ragazzi hanno difficoltà a rientrare a casa sia a piedi sia alla guida di motori perché inseguiti da branchi di randaggi e anche questo il fenomeno del randagismo è un problema tutt'altro che risolto o arginato.